buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 28 dicembre 2021 il sole sorge alle 7 e 41 e tramonta alle 16 e 38 oggi non si festeggia un santo particolare ma si festeggia si festeggiano un insieme di santi sono i santi innocenti sono i bambini che furono trucidati per ordine di erode che voleva uccidere gesù all'epoca appunto della nascita del bambino bambini trucidati a betlemme per ordine di erode che voleva mettere a morte gesù in quanto lo considerava un suo concorrente al posto appunto di re avvisato da un angelo però giuseppe partì per partì da betlemme per raggiungere l'egitto così racconta il vangelo qui restò nella terra dei faraoni fin quando erode non morì e poi tornò nella sua patria quindi si festeggiano i bambini piccoli innocenti che furono morti così per una causa di potere vediamo subito le notizie del giorno ma prima vediamo il meteo il tempo continua a essere perturbato nella nostra regione vediamo ora la grafica ecco vediamo le nuvole con un po di pioggia sono residue piogge notturne poi il tempo è in miglioramento seppure con una nuvolosità diffusa locali aperture più probabili a metà giornata le temperature oscillano tra gli 8 e 9 gradi quindi piccola escursione meteorologica ed ora diamo un'occhiata alle notizie del giorno a partire dal resto del carlino vediamo subito la pagina di fano eccola qui e vediamo la fotografia delle vice sindaco fanesi un maxi parallelipipedo di vetro il cantiere wider fa già discutere è stato uno degli argomenti principe dell'ultima seduta del consiglio comunale di fano dell'anno si è discusso di una variante al piano regolatore del porto ad un diciamo così più che una variante ad una differenziazione rispetto a quello che si prevedeva prima era un cantiere quello prefigurato da marina group in modo particolare dalla società cantieristica spa alto 14 metri già si pensava che fosse un grande cantiere ma ora si prefigura qualcosa di più alto addirittura un cantiere di 24 metri per realizzare yacht della lunghezza di 80 metri un impatto ambientale particolare e quindi ci sono state dei dissensi in consiglio comunale l'opposizione in modo particolare il movimento 5 stelle fratelli d'italia hanno criticato la previsione anche perché poi erano rimasti all'oscuro la giunta già prefigurava questo dal mese di giugno in realtà è stata resa nota alla fine di dicembre mentre il vice sindaco fanesi parla di una svolta per tutto il comparto in quanto un nuovo cantiere più diciamo così realistico di quello che si prefigurava prima dato che è rimasta l'area è rimasta senza nulla per molti anni fa sì che si incentivi il lavoro si incentivi l'economia del territorio i consiglieri marchegiani e fattori che sono in maggioranza però mettono le mani avanti un impatto significativo che può costituire un problema ma anche una opportunità insomma bisogna stare attenti per quanto riguarda soprattutto l'estetica dato che quello è anche un porto turistico e per quanto riguarda l'impatto ambientale Rodolfo Canestrari dal grande freddo al municipio Rodolfo Canestrari è un fanese è un fanese che ha partecipato ad una missione di lavoro in Antartide ad un'altezza di 3200 metri e a 1200 chilometri dalla costa pensate un luogo sperduto in uno dei posti più terribili del mondo per le temperature basse per l'isolamento per il clima insomma condizioni di lavoro molto molto difficili ma Canestrari ha svolto il suo compito con grande professionalità è tornato a Fano ed ora si merita un periodo di riposo per poi riprendere i suoi studi le sue ricerche ed è stato appunto ricevuto dal sindaco Massimo Seri. Bici d'oro per sette Porsche così strego i VIP una pagina dedicata ancora un altro personaggio fanese un personaggio particolare che a suo tempo ha invitato la bicicletta d'oro la golden bike ed ora un set per macchine di lusso è un set pensate composto da una 24 ore di piccole dimensioni dove nel coperchio c'è una cartella una cartella porta computer e da dove scende un mini scrittoio intarsiato con disegni geometrici e greche con un monogramma personalizzato in ottone intonato alla pelle di Cartier insomma una roba veramente da favola possiamo dire da nababbi insomma molto molto di lusso però insomma che evidenzia la creatività di un personaggio fanese che qui vediamo ritratto nella sua abitazione con le sue creazioni questa per esempio è la bici d'oro che ha fatto qualche anno fa frenare gli studenti in fuga un patto tra le istituzioni è una dichiarazione dell'assessore barbara brunori comune scuole sindacati sono al centro di un percorso che vuole indirizzare i ragazzi per la progettazione di spazi cittadini gli stessi ragazzi che nella maggior parte fruiscono poi di questi spazi il pincio le piazzette la rocca malatestiana creati da loro se la sentono poi propri e quindi difficilmente verranno al punto di danneggiarla come accaduto in passato e poi rendere i ragazzi protagonisti gli si ancora ancora di più all'amore per la città ex fornace via i sigilli siamo a terre roveresche modo particolare a dorciano entro marzo spariranno le macerie il titolare dell'area che si chiama vediamo emiliano grandi lo vediamo qui nella foto ha assicurato che i materiali non sono inquinanti né pericolosi ma entro marzo saranno rimossi e i maxi cumuli di macerie sono cemento mattoni ferro presenti nell'area del sfornace di orciano che è stata dimessa ormai da tre decenni tra qualche mese dovrebbero essere solo un ricordo a fornire le indicazioni e proprio il titolare dell'area a frate rosa è stato siglato un patto interessante un patto tra regione e slow food a rappresentare la regione il vice presidente mirco carloni il piccolo centro è l'unico presidio della provincia grazie alla sua varietà di fava carloni importanti progetti di promozione il piccolo comune cesanense ha ospitato l'incontro tra appunto il vice presidente e il neopresidente di slow food marche vincenzo maidani alla presenza del sindaco a valtroni e di aute autorità si tratta di un importante accordo di carattere commerciale produttivo quindi di carattere economico che potrà valorizzare il piccolo centro marchigiano giriamo ancora le pagine siamo ad urbino a urbino si parla di sanità reparto covid in ospedale una pioggia di polemiche infatti l'area vasta apre oggi un modulo covid di 17 posti a macerata feltria intanto però i sindacati tuonano contro l'apertura di un nuovo reparto covid all'interno dell'ospedale di urbino reparto dove al momento si trovano quattro pazienti uno erano cinque una è deceduta si tratta di un'anziana di cui uno solo però è vaccinato preoccupazioni che i sindacati cgl cisle will hanno espresso durante un incontro con il presidente della provincia giuseppe paolini la uni urb e il gruppo schnell uniti da progetti degli studenti di marketing sette gruppi di lavoro e più di 50 studenti del secondo anno di laurea magistrale a durbino hanno svolto un progetto di sviluppo dai dei mercati esteri e per quanto riguarda le mire i programmi organizzati dalla schnell una delle più importanti imprese della nostra produzione della nostra economia territoriale una opportunità unica per trasformare teoria e pratica lavorando fianco fianco con i manager dell'impresa quando si dice la scuola e il lavoro devono andare insieme questo è un esempio eclatante di efficacia di insegnamento ma anche di lavoro pragmatico e questa mezza pagina che vediamo qui pubblicata dal resto del carlino che costituisce da il senso ad una intervista rilasciata da un imam che opera appunto nell'alto montefeltro si tratta di yousef id abdel kader imam per la comunità musulmana di urbino e ferminiano qui anche il primo cimitero islamico a livello provinciale e nella intervista si evince che cosa significa fare l'imam in un paese a maggioranza cristiana come l'italia una piccola enclave musulmana ci è chi sono i praticanti non praticanti il problema del covid insomma i problemi che con cui si confronta la gente di tutti i giorni tutti in tutti i giorni l'imam ha 31 anni e di origine marocchine vive a ferminiano e dal 1999 lavora lì come operaio in una ditta locale ovviamente il suo incarico di imam è volontario e quindi lo fa dopo il lavoro a borgo pace natale da record c'è l'albero più alto della regione e questa fotografia che è scura lo si vede poco ma è alto 31 metri pensate che quello che è in piazza duomo a milano è soltanto alto 28 metri quindi questo albero lo batte non è un albero tagliato è un albero radicato nel territorio e quindi resterà lì ovviamente senza addobbi fuori del periodo di natale per tutto l'anno ed ora diamo un'occhiata alla pagina di pesalo sul resto del carlino vediamo come reagiscono alle misure anti covid i proprietari delle discoteche discoteche la rabbia dei titolari dopo lo stop decretato dal governo noi chiusi porte aperte all'abusivismo dicono purtroppo i proprietari delle discoteche perché perché se discoteche sono chiuse per una ordinanza ministeriale c'è poi chi organizza delle feste insomma in locali appartati e quindi si dà via libera all'abusivismo a intervenire sul problema è marco arzeni segretario del sindacato locali da ballo marco arzeni anche il direttore della conf commercio di fano il quale denuncia circoli privati e centri sociali liberi di fare come vogliano nessuno controllerà e saranno inevitabili gli assembramenti badioli della baia imperiale una figuraccia incredibile insomma c'è questa reazione dei titolari delle discoteche vessati anche nei mesi trascorsi vaccini di capodanno c'è l'assalto mai vista tanta gente insieme e questa questo titolo viene documentato anche da queste fotografie vediamo quante persone sono in fila nell'ex ristò per ricevere il vaccino oltre 500 le persone ieri pomeriggio all'ex ristò ma a creare il caos è stato il boom dei non prenotati la coda anche all'esterno del centro commerciale si è dilungata parecchio sul posto per cercare di mettere ordine sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale variante omicron per il 25 per cento dei positivi è la stima che fa il direttore di virologia torrette stefano menzo ieri intanto 357 prenotati in provincia nella fascia 12 17 anni per la terza dose e sono i giovanissimi che si vogliono mettere in regola e intanto ancora polemiche per il pronto soccorso si corre ai ripari pronta la task force intanto figliolo e curcio promettono aiuti sono previsti 100 medici in campo per la presa in carico diretta dei pazienti che frequentano il pronto soccorso il sindaco Petrucci telefona al commissario e capo della protezione civile insomma qual è il piano per sostenere il pronto soccorso che è in difficoltà si parla del San Salvatore ma si parla anche dell'ospedale Santa Croce abbiamo fatto una vera e propria istruzione operativa basata su criteri già in atto per le guardie interdivisionali nei notturni e festivi abbiamo delle guardie nei presidi e con gli stessi criteri abbiamo mandato via un centinaio di lettere a tutti i medici delle discipline e questa è la task force quella dei medici degli altri settori delle altre discipline che interverranno nei pronto soccorso per rafforzare l'organico in servizio ed ora parliamo anche di un fatto di cronaca che ha funestato le festività ammazza la moglie poi dorme e mangia ai carabinieri dice non voleva fare sesso in carcere per omicidio volontario Vito Cangini di 80 anni di Fanano nel comune di Gradara le ha inferto almeno 4 coltellate nel petto di cui una mortale perché è stata inferta nel cuore l'omicidio è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre al rientro del lavoro della donna che lavorava in un ristorante ma quello che colpisce oltre all'efferratezza del fatto del delitto è il modo con cui si è comportato questo tantenne che dopo aver ucciso la moglie è andato nella sua cucina ha mangiato un piatto di capelletti poi è andato a dormire ha dormito con il cadavere della moglie che giaceva sul pavimento è andato a passeggio con il cane insomma ne ha fatte di tutti i colori e poi alla fine ha detto a un amico o un vicino di casa chiamate i carabinieri questo ha detto non sono affari miei poi ha chiamato il titolare del ristorante insomma alla fine i carabinieri sono arrivati e hanno capito che quello che si denunciava era realmente accaduto e l'uomo è stato arrestato e quindi ha confessato il delitto chiama i carabinieri ha detto al vicino ma l'altro non sono affari miei anche questo non merita commenti basta col cibo dei supermercati nei cassonetti pronti a organizzare la raccolta per i poveri e dopo il servizio del Carlino sui disperati in cerca di generi alimentari nei bidoni della immondezza la ditta Gulliver l'associazione Gulliver scende in campo i nostri volontari disponibili a recuperare i prodotti freschi invenduti quello che ci manca per partire è un furgone frigo hanno dichiarato e quindi anche loro cercano un mezzo per così per attuare il loro progetto il Consiglio Comunale pronto a tornare a casa si torna in un luogo deputato quello appunto dove si svolge generalmente il Consiglio Comunale di Pesaro e la sala sarà rivoluzionata dalla tecnologia qui vediamo i membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Pesaro che si fanno fotografare della sala consigliare vediamo qui la mappa di Pesaro che è stata realizzata in ceramica e vediamo ora sul Corriere Adriatico le notizie che riguardano Fano vediamo subito come il giornale parla di sicurezza sulla viabilità i tecnici hanno individuato dieci punti a rischio e quindi si va al via per il piano della sicurezza verranno realizzati marciapiedi attraversamenti rialzati e sensi unici in totale si tratta di dieci punti critici di cui tre a Bellocchi due in via 4 novembre e uno ciascuno a Rosciano Centinarola Roncusambaccio Ponte Sasso e Tombaccia insomma sono degli incroci veramente pericolosi e quindi si mettono in sicurezza in modo particolare i ciclisti e i pedoni sul Corriere Adriatico abbiamo la foto di Canestrari con il sindaco Massimo Seri il ricercatore dell'Antartide è stato invitato ad incontrare appunto il sindaco di Fano stop al contratto con l'Atundo per l'ennesima inadempienza decisivo per la risoluzione il mancato pagamento dell'assicurazione degli automezzi ormai non pagava più la benzina non pagava più gli stipendi agli autisti e quindi il contratto con l'Atundo è stato rescisso il consiglio il comune di Fano cercherà di risolvere in altro modo il problema del trasporto scolastico e dovrà farlo entro la fine delle vacanze di Natale a Urbania la zona del grande invaso è sismica e anche franosa il gruppo A consiste sulla inadeguatezza del progetto del lato anche per l'interramento insomma anche ieri c'è stata una scossa di terremoto che è proprio accaduta che ha messo a vibrare proprio l'invaso che dovrebbe appunto essere utilizzato per il rifornimento idrico l'acqua sottolinea ancora una volta il gruppo non va dunque l'invaso di Apecchio non va realizzato per lasciare il posto a soluzioni alternative percorribili ed ecologiche insomma bisogna avere rispetto per l'ambiente il sindaco Seri confida intanto nel rilancio delle terme dei progetti per Carignano si è discusso in consiglio la disponibilità della regione a favorire il riscatto il risorgere delle terme di Carignano la nuova raccolta differenziata a Mondolfo un eco progetto al via tra sei giorni cambiano le abitudini in questa città e anche a Marotta ecco le informazioni e i numeri utili il servizio porta a porta prevede la rimozione dei contenitori stradali a libero accesso e la consegna di nuovi bidoncini per la raccolta che renderanno più puntuale ed efficace la gestione dei rifiuti oltre alla presenza in diversi quartieri di eco-isole a servizio delle utenze non residenziali e di utenze non domestiche con specifiche necessità è solo una delle innovazioni che viene apportato nella raccolta dei rifiuti appunto a Mondolfo poi abbiamo Guccini che trascorre le vacanze di Natale a Mondolfo l'ex cantautore e scrittore nella città Natale della moglie apprezza i prodotti tipici ovvero la buona cucina e vediamo anche qualche notizia di Senigallia soprattutto questa pagina che mette in evidenza il rischio assembramenti a capodanno il sindaco spegne la musica in piazza e qui vediamo il sindaco Olivetti che sceglie la linea della prudenza i DJ al foro potrebbero richiamare gente meglio evitare secondo il primo cittadino niente presepe vivente a Barbara a Ostra molti focolai a seguito delle feste private quindi occorre sempre prudenza 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 al pronto soccorso una situazione al limite anche a Senigallia registrato un falso allarme per un operatore vaccinato positivo al tampone rapido e poi risultato negativo al molecolare insomma anche questo mette in apprensione appunto le persone e anche il personale addetto appunto alle cure vediamo anche la situazione del covid sul Corriere Adriatico sette giorni di fuoco infettati 880 studenti la scuola nel Mirino Curcio ora si occupa di Marche Nord parlo con Figliolo il capo della protezione civile chiama il sindaco di Monbaroccio dopo la segnalazione chiesti chiaramente a Saltamartini e Petrucci il sindaco appunto invia una lettera agli altri primi cittadini dell'emergenza pronto soccorso di Marche Nord per un organico di medici drammaticamente sottodimensionati si interessa ora il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio che per le implicazioni relative al carico dei malati covid sull'azienda ospedaliera di Pesaro si è impegnato a coinvolgere in persona il commissario straordinario per il contenimento della pandemia Figliuolo quindi ormai si mette in evidenza proprio nelle fasi alte il problema di Pesaro che diventa un problema veramente serio perché insomma interessa la vita delle persone e qui abbiamo diverse dichiarazioni come il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci e poi la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Marta Ruggeri e Giuseppina Catalano ex direttore di Oncologia di Marche Nord un sindaco un consigliere regionale e un addetta ai lavori nuovo reparto covid nelle RSA in rete anche Macerata Feltria il direttore Magnoni migliorati i percorsi di ricovero a Urbino una zona grigia sono previsti a Macerata Feltria 17 posti letto e saltiamo la pagina sono quasi due le pagine sì sono due le pagine che rilevano il fatto di sangue che è accaduto a Gradara il no a un rapporto sessuale ha scatenato la furia omicidia e ritorniamo invece a parlare di sanità negli hub la rincorsa alla terza dose e i non prenotati diventano un caso lunghe file ieri a Muraglia e all'ex Ristò dove sono stati anche chiamati i carabinieri per contenere il flusso e nel consiglio comunale di Stacanovisti in 15 non hanno mai saltato una seduta si fa un po' il consuntivo delle sedute del consiglio comunale di Pesaro che si sono svolte durante l'anno numeri alti per l'assise preseduta da Perugini che a metà gennaio saluterà la sala a Pierangeli e appunto tornerà nella sede deputata super mascherine impennata di richieste e le farmacie incrementano le ordinazioni l'obbligatorietà delle FFP2 per trasporti pubblici cinema e teatri ha scatenato la corsa all'acquisto e tutti ovviamente si devono premonire di questo tipo di mascherine e siamo ormai in conclusione diamo un'occhiata anche alla pagina di Vallefoglia amministrazione in aiuto delle famiglie in difficoltà il sindaco Ucchielli contributi per i pagamenti delle utenze di luce acqua e gas ovviamente alle famiglie più bisognose e questa era l'ultima notizia prima di chiudere solo due titoli di sport abbiamo io resto ma ora facciamo gol per l'ant parla così lo sponsor Enzo Camellini per quanto riguarda la vis che scrive la sua storia in un libro ed evolve l'incasso e annuncia Bosco è un grande e io sarò ancora con lui il fanocalcio si regala il fantasista Eco Herrera un trequartista di 29 anni di nazionalità panamense in uscita dal Lavello una formazione del Gerone H della Serie D in prova anche il portiere Olivieri e con questo rinforzo il fanocalcio affronta le prossime gare di campionato è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle 20 e 30 di stasera nel TG occhio alla notizia buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti